Si vota dunque il 25 settembre, sono lezioni naturalmente terribilmente importanti e sono terribilmente importanti perché avvengono in una situazione nazionale e internazionale di grandi crisi, di guerra, di scontri intemperialisti, ma anche ancora dentro una crisi ambientale drammatica che minaccia l'umanità e il pianeta e dentro una crisi pandemica assolutamente non risolta e che non si vuole ormai affrontare nei termini di uno sviluppo della sanità pubblica adeguata esattamente alla gravità di questa pandemia stessa. Le classi popolari si trovano presi nella morsa di una crisi economica drammatica in cui il caro vita, l'elemento centrale, colpisce a fondo i redditi, le pensioni, i redditi del lavoro, rende le famiglie sempre più insicure con un grande punto interrogativo su quello che sarà la loro condizione nella prossima fase, nell'autunno che verrà, anche perché appunto sarà una crisi che potrà ancora aumentare con l'arrivo dell'autunno e dell'inverto. Naturalmente in questa crisi qualcuno ci guadagna, ci guadagna molto, le grandi multinazionali dell'energia e sui giornali di tutti i giorni i profitti giganteschi che stanno facendo e in questi giorni anche le banche che distribuiscono i dividendi dei profitti che hanno fatto molto forti già nei primi sei mesi dell'anno e che continuano a fare. La domanda è chi è responsabile di tutto questo? Naturalmente che ci governa, naturalmente la classe dominante, quella che gestisce tutto questo, che resta sempre sullo sfondo ma è ben presente, che sono i ricchi certo ma che sono in particolare appunto una classe, una classe sociale, la borghesia che agisce attraverso i propri partiti. Tutti i partiti più grandi, i partiti che hanno governato negli ultimi anni sono responsabili di questa situazione e sono gli stessi peraltro i grandi partiti che oggi si presentano in competizione per cercare di essere loro a vincere e a gestire però quest'ordine, non a cambiare questo sistema, ma a gestire quest'ordine. Da una parte ci sono le destre che sono date, sembro mai largamente vincenti, sono destre reazionali, razziste, anche fascisteggianti, sono le destre che colpevolizzano i poveri, i più fragili, che fanno una vera e propria guerra ai lavoratori migranti, che sviluppano ideologie reazionali, che propongono la flat tax, cioè semplicemente che i padroni paghino ancora meno tasse di quanto già fanno e che vi va bene, anzi lavorano perché ci sia una classe lavoratrice sempre più divisa, dispersa, milioni di disoccupati, privi di qualsiasi prospettiva, disponibili a farsi sfruttare in qualsiasi modo dalla classe dominante, dai padroni, dagli imprenditori. Questo ci attende se come possibile e probabile le destre andranno al governo e oltretutto una vittoria loro naturalmente semplicemente permetterà ai fascisti di ogni sorta di uscire dalle fogne in cui la lotta dei lavoratori le aveva ricacciate e sarà una società molto più cupa, molto più brutta, molto più drammatica, a cui i lavoratori, le classi lavoratrici dovranno saper rispondere con estrema forza. Dall'altra parte c'è un partito democratico che da tempo si propone come il miglior partito di gestione della borghesia, che è responsabile delle politiche e l'austerità degli ultimi 15 anni, praticate assolutamente insieme alla destra, che non ha avuto alcuna preoccupazione a introdurre, sviluppare le leggi della precarietà come quello del Geobar, ma non solo, era una delle tante leggi oppure semplicemente non ha avuto nessun problema a votare la drammatica riforma Fornero sulle pensioni, anzi la contro riforma Fornero. Oggi il Partito Democratico fa finta di essere un po' più a sinistra, dice che ha cambiato idea su alcune leggi, in realtà non sta neanche nel loro programma, in realtà semplicemente sono prodotti propagandistici, che vengono avanzati in fase elettorale, ma la logica loro è la continuità in realtà dell'agenda Draghi, cioè quella agenda che esattamente si propone un rinnovamento del capitalismo, un rilancio del capitalismo a spese delle classi lavoratrici, a spese appunto della loro divisione, della loro frammentazione. E per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, attenzione, è stato il partito più governista di tutti quanti, non ha cambiato praticamente nulla in questi anni, ha gestito anzi alcune leggi e alcune politiche insieme alle destre particolarmente pesanti, oggi il fatto che in campagna elettorale si riproponga come un progetto, come una figura progressista non deve ingannare, non può avere il nostro voto, come non lo possono avere naturalmente le destre, non lo deve avere il PD, non lo deve avere neanche il Movimento 5 Stelle. Aggiungo una cosa, grande responsabilità ce l'hanno le organizzazioni sindacali, non ci sarebbe stata questa situazione, questa drammatica situazione se avessero fatto il loro dovere, se in particolare la CGL avesse chiamato il lavoratore alla mobilitazione alla lotta, intorno alla difesa del salario, dell'occupazione, contrastando tutte le politiche dell'austerità, le divisioni e tutto quanto dai lavoratori. Non è stato fatto ed oggi ci troviamo in questo tipo di situazione con tanti lavoratori anche disillusi che addirittura pensano di votare le forze della destra. Per questo in queste elezioni non bisogna però lasciarsi andare alla disporazione, non bisogna assolutamente anche stare a casa, non andare a votare, anche se tante cose spingono in questa direzione. Nonostante le difficoltà, le debolezze e tutto quanto, la coalizione messa insieme alle forze della sinistra radicale che si chiama Unione Popolare merita di essere votata, merita di essere votata perché è una posizione con proposte che partono dalla difesa del salario, dell'occupazione, che tengono insieme i diritti economici, i diritti del lavoro con quelli, i diritti democratici e i diritti sociali. Un programma quindi che vale la pena di sostenere ma che soprattutto andrà poi sostenuto con la mobilitazione e con la lotta. Votare infatti è bene, assolutamente necessario, ma già adesso, prima ancora di votare e poi dopo aver votato, occorre in realtà essere molto consapevoli che soltanto la lotta, la mobilitazione potrà impedire che le politiche del capitale, le politiche della borghesia vengano portate avanti ancora una volta da chiunque sia il governo a spese delle classi lavoratrici. Solo la mobilitazione, l'auto-organizzazione delle masse, dei lavoratori, delle lavoratrici, sui luoghi di lavoro, nei quartieri, nella società potrà impedire che le crisi che si sommano tra di loro siano pagate dalle classi lavoratrici. Quindi votare bene, andate tutti a votare, votate Unione Popolare, ma nello stesso tempo prepariamoci, anzi organizziamo subito per la mobilitazione e per la lotta, perché è anche meglio, cioè si può votare bene, ma meglio ancora è poi lottare, anzi necessario lottare, per costruire le condizioni di reggere l'offensiva delle classi dominanti, dei partiti che le rappresentano e veramente nella prossima fase far sì che la crisi non la paghino le lavoratrici, i lavoratori e le classi popolari, ma comincino a pagarla assolutamente, chi è responsabile di tutte queste grandi crisi che travolge la società stessa, questa società capitalista che va assolutamente cambiata, bisogna costruirne un'altra, un'altra basata sui bisogni delle persone, sui diritti, quella che noi chiamiamo una società ecosocialista, cioè che sappia difendere le condizioni delle masse popolari, ma preservare anche il pianeta dalla catastrofe della crisi climatica che sta per arrivare e che è già in arrivo, anzi.